Qualche parola? Finalmente. Finalmente dopo nove anni ci siamo. Vedremo quello che ci salterà fuori. Cage. Non mi sembra ancora vero di essere quasi pronto ad iniziare Cage. È per me incredibile pensare che finalmente ho Cage. Era una chimera, era un'utopia, era il progetto interminabile, era il sogno nel cassetto, era qualcosa di impossibile. Eppure passo dopo passo si fa. Abbiamo capito la scelta. Ma non è un cappello più lento. Potrebbe essere una massa di camera. Ci mettiamo sopra, diciamo, un sacco, 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 un sacco. Perché all'inizio e diamo un senso di fermezza. Perché poi butteremo tutto quanto sul shoulder con l'ursa dopo, nella scena nove. Tutto qua. Allora io ti sei spazzato con la posizione. Esatto, non so se vuoi fare lì. Sì, tu che sei più alto oggi! Sì, ma... Io sempre bisogno di... In questo momento... E' esatto. Così è perfetto. Sì. 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 È vero, è vero. Sì, sì, sì. Giu, testaggio. È per quello che hanno preso la truccatrice. I ti dopo. Cosa pensavi? Eh, Simo, posso ritirarmi? Oh... Tutti idratati? Pugnate un po' là? Sì. Sì. Così. Io lì non devo vedere luce. Io faccio una mastra qua. È una mastra per ora. L'unica cosa che mi preoccupa è questa. Questa altezza qua. Sto bene. Sto bene. Sto bene. Sto per morire. Ciao, pubblico. Sei disperato? Magari sei morso le labbra, sei tagliato? Mi piace. Mi piace. In questo modo. Vorrei che ci sia un'evoluzione che abbia il trucco. Ok. Quindi, prima scena, normale. Poi, scena sette, scena nove, più avanti, più questa cosa aumenta. Sì. No, no, mi sentivo sottilare al massimo. Ma è un po' là di più. Però con un'albina, poi, c'è un po' là di più. Ma è stato un po' là di più. Ma è stato tutto il po' là di più, quindi c'è la domanda. È ripresa. Sì. No, ti stai fatto in realtà? Sì. Sì, ti provo. Siamo ancora in truppo. È già. Eh. È. 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 Scena 5H type 1 Allora lì ti stai imparando la mano giusto? Facciamo mano e avambraccio Esatto perché Clayton andrà sull'avambraccio Allora qualcuno esiste lassù che mi vuole bene Caldo Com'è andata la prima scena? Allora, 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 la prima scena, la prima scena come si può definire una m***a? No? Non è vero Mi sono svegliato, ho capito che non ero più io Ma ero un'altra persona Addirittura sullo sfondo nero c'è un dettaglio staccato da tutto Allora Allora 5 I prima Azione Ok Clayton Perfetto 3 2 1 Vai 3 2 1 Via 3 2 1 Via Bellissimo Strepitoso Sono in mezzo per caso No Mi dà sollievo Da lì Sento un tocco Diverso rispetto agli altri È un tocco dolce Appettuoso Sento una voce Sento una voce È Giulia Facciamo solo su stessa Ok Dove facciamo il dialogo di pagina 8 Quindi la prima parte di pagina 8 Esatto Trasciamo solo su di lui Quindi adesso facciamo la ripresa solo su di lui Ciacca in campo C'è una 9 BF E 4 E azione L'energia che tu hai avuto oggi Che ti ho avuto stamattina Molteplicata per 10 Semplicemente Ok Semplice Ottimo Semplice Tu quando hai urlato Quando il cliton aveva messo la mano Ok Lì Io la sentivo Io lì Carico Ma non aspettare il mio stop Ok Cioè tu devi vivere il momento Devo muovermi Esatto Devo trovare una soluzione per spostarmi da qui Cioè tu vedi la vita E1 E2 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 E3 E3 Grazie a tutti.